Vigilia della quattordicesima giornata nel girone G di Serie D, ben trovato Mr. Zironelli. Buongiorno a tutti. Trasferta importante, trasferta contro il Budoni, vista la classifica, dobbiamo considerarlo uno scontro diretto in chiave salvezza, almeno per adesso. Certo, i numeri dicono questo, quindi ci stiamo preparando bene per questo. Ovviamente siamo contenti della vittoria che ci ha fatto un po' sbloccare un periodo così, però ci voleva soprattutto per i giocatori, per continuare ad avere autostima in quello che fanno. Però non dobbiamo comunque mollare niente, veniamo da una vittoria, però dobbiamo consolidare questo momento. Non sarà semplice perché il campionato comunque è insidioso, è lungo, quindi ci sarà da fare. In settimana c'è stata maggiore serenità per poter lavorare sui difetti che sono emersi nella gara di domenica scorsa e che tu stesso hai segnalato nella conferenza stampa post-gara. Sì, abbiamo lavorato su questo e comunque vanno consolidate certezze e poi ovviamente ci sono delle cose da limare. Anche nella vittoria comunque si vanno ad analizzare la compattezza che ancora non c'è a pieno sui vari reparti. Quindi questo noi siamo consapevoli, sono consapevoli i ragazzi e dobbiamo cercare di sistemare queste cose qua. Prendiamo visita a una squadra che ha collezionato la maggior parte dei punti finora in classifica proprio tra le Muramiche. Un gara particolare, campo particolare. Come si affronta la trasferta contro il Budoni? Sì, è un po' una costante questa delle squadre della Sardegna dove hanno fatto molti più punti in casa che fuori però è una cosa che dobbiamo invertire invece noi perché anche noi abbiamo fatto delle ottime partite e comunque punti soprattutto in casa, fuori dobbiamo invece cercare di cambiare volino di marcia e invertire questo segno che non è mai venuto fuori praticamente. Quale potrebbe essere la ricetta o comunque qual è il dettaglio da correggere per far fare questo switch alla squadra? È che comunque noi dobbiamo pensare a giocare a calcio e non pensarci, fare la prestazione. Fare la prestazione vuol dire che l'atteggiamento deve essere sempre uguale in qualsiasi partita come hanno fatto nelle ultime partite. Quindi atteggiamento positivo e poi quando hai un atteggiamento giusto fai fatica a sbagliare la prestazione e comunque nessuno ti può dire niente perché quando dai tutto il tiposo è contento. E' questo che continuo a dire. Noi dobbiamo dare tutto come abbiamo fatto in queste partite qua e prima o poi il trend lo cambieremo. È iniziato il periodo più complicato probabilmente per la gestione psicologica dello spogliatoio. Riapertura delle liste di trasferimento, distrazioni, testate giornalistiche che spesso e volentieri le buttano un po' a caso. Insomma le voci di mercato, come si fa a mantenere la concentrazione su una gara importante come quella contro il Budone? Sì ovviamente questo è il periodo più brutto perché sono un sacco di notizie però da giocatore ricordo che la cosa importante è comunque allenarsi bene perché in qualsiasi caso se rimani nella squadra o se vai su un'altra devi stare bene. Quindi non ha nessun senso a tirare indietro la gamba o non allenarsi bene perché comunque fa parte del tuo mestiere e devi farti trovare pronto e quindi in qualsiasi caso anche se vai via devi essere sempre preciso e perfetto e stare bene fisicamente. Di conseguenza è importante allenarsi bene perché la realtà dei fatti è questa. Poi ci sono dei giocatori che ovviamente vengono disturbati da queste cose, si fanno prendere da queste cose e comunque è deleterio per la squadra, l'importante è che cerchiamo di fare in modo che siano positivi.